Inizialmente questo video doveva essere molto diverso rispetto a quello che vedrete, visto che in un primo momento pensavo di realizzare un semplice recap dell'evento Ubisoft, nello stile di altri recap che già avete visto qui sul canale. Non vi nascondo infatti che al netto di tutto ero abbastanza sicuro che questo Ubisoft Forward sarebbe stato ricco di novità, magari anche con giochi che non avrebbero destato particolarmente il mio interesse, ma comunque un'occasione per far vedere al mondo tante sorprese, tanta concretezza e anche tanta varietà, le meraviglie che nei prossimi mesi o anni avrebbero dovuto stregare noi videogiocatori e queste mie aspettative nascevano da una motivazione abbastanza ovvia, molto banale se vogliamo. L'ultimo evento targato Ubisoft è datato giugno 2021, cazzo è più di un anno che non si sente parlare di una delle compagnie videoludiche più importanti del globo, quindi quale momento migliore se non questo per prendere in mano la situazione e far vedere al mondo di che pasta la società francese è fatta? Ecco, io oggi sono qui innanzi a voi per dire che Ubisoft non è assolutamente riuscita in questo intento, perché ragioniamoci, cosa abbiamo visto? Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, già conosciuto, ma è sempre un gran piacere rivederlo. Bellissimo, coloratissimo, magnifico, sembra già divertentissimo e anche molto più vario del primo capitolo. Un orgoglio italiano che non vedo l'ora di poter giocare. Skull & Bones, la cui peculiarità più interessante sono le dichiarazioni del team stesso che si aspetta un fallimento totale del gioco. Un'opera che appare poco ispirata, poco divertente e priva di qualsivoglia guizzo creativo. Se in un primo momento la sua uscita in contemporanea con Ragnarok poteva essere vista come una mossa semplicemente stupida, ora ne comprendo la genialità intrinseca. D'altronde, quale modo migliore per far scomparire in fretta un gioco che già sai verrà odiato, se non facendolo schiacciare da un mostro sacro ben più grande e rumoroso? Nuovi contenuti per Riders Republic, nuovi contenuti per The Division 2, The Division Heartland, ovvero un free-to-play multiplayer con elementi survival che solo a guardarlo stavo già iniziando a sbadigliare, The Division Resurgence, che sarebbe la Dark Zone di The Division strappata al gioco originale e ficcata su mobile. Wow, bella merda! Rainbow Six Siege Mobile, perché dopo quel disastro di extraction bisognava assolutamente trovare un modo per tappare il buco grosso come una casa creatosi nella community dei fan, ben tre nuovi giochi sviluppati in collaborazione con Netflix, ovvero un Assassin's Creed, Mighty Quest e Valiant Hearts 2. Cazzo, Freccia, Valiant Hearts 2? Veramente? Ma che figata? E cosa hanno fatto vedere del gioco? Esatto. È stata mostrata la serie Apple di Mighty Quest, la conferma di Trackmania, che dopo anni dallo uscito a PC arriverà anche su console, si è rivisto Rocksmith Plus, che vabbè, a me non interessa, ma sicuramente intrigerà tutti e tre i giocatori che possiedono una chitarra, cinque splendidi minuti passati su Just Dance, con grande dovizia di dettagli nello spiegare come l'interfaccia utente sia stata rivista, e poi Assassin's Creed. Ecco, scherzando, durante l'evento ho affermato che mi sarei aspettato tre o quattro Assassin's Creed, ma nei fatti mi sarei sorpresa vederne annunciati anche solo due. Onestamente non credevo che Ubisoft potesse fare una tale puttanata e saturarsi in maniera così terribile, e invece mi sono dovuto ricredere. Nello specifico, infatti, abbiamo avuto Assassin's Creed Mirage, un nuovo capitolo dedicato a Basim, un nuovo DLC gratuito di Assassin's Creed Valhalla, questo The Last Capture che, a quanto pare, dovrebbe essere distribuito gratuitamente, Assassin's Creed Codename Jade, ambientato in Cina e in arrivo su mobile. Però attenti, questo gioco non è quello annunciato da Netflix, e quello è tutta un'altra roba, il che significa che siamo già al secondo Assassin's Creed Mobile. Sempre Netflix starebbe lavorando a una serie live action dedicata ad Assassin's Creed, poi è stato annunciato il nuovo Assassin's Creed Codename Red, capitolo ambientato nel Giappone feudale e atteso su console PC, Assassin's Creed Codename X, altro capitolo principale della saga, e infine Assassin's Creed Infinity, che, da quanto dichiarato, dovrebbe essere un'app online attraverso il quale i giocatori potranno incontrarsi e accedere a tutti i capitoli del brand, vecchi e nuovi, ma anche un luogo che in futuro dovrebbe offrire una sorta di gioco a sé stante, interamente votato al multiplayer. Quindi, ricapitolando, in un singolo evento sono stati presentati, a tema Assassin's Creed, una serie Netflix, due giochi mobile, tre titoli principali della serie e poi questo hub che dovrebbe permetterci di collegare insieme e di vivere tutti i capitoli della saga, ma che poi in un prossimo futuro dovrebbe diventare anche un gioco a sé stante interamente votato al multiplayer. Ma che merda è? Allora, qui i problemi sono due, entrambi facilmente intuibili. Il primo è che, tolto il DLC di Valhalla, sono stati annunciati 27 prodotti di Assassin's Creed di cui non abbiamo visto nulla, assolutamente nulla. Un trailer in CGI, un samurai, la muraglia cinese, dei loghi e poco altro. Trenta minuti per avere un cazzo in termini di gameplay. Non ci hanno fatto vedere assolutamente nulla, io stavo sbadigliando mentre mi rifilavano sti loghi maledetti. A che mi serve sapere che stai lavorando a 31 giochi dello stesso brand se poi non mi fai vedere nulla al riguardo? Solo vane parole, solo promesse da due soldi per farci sapere che saranno EEEE, titoli incredibili, titoli che attingeranno a piene mani dal passato, titoli che concretizzeranno i sogni di tutti i fan. Però non ce li fanno vedere. Ma vaffanculo. Secondariamente, il problema è che qui sono stati annunciati ben sei nuovi giochi di Assassin's Creed... Ovvio, sei giochi. Sei se contiamo anche Assassin's Creed Infinity. Facciamo cinque. Cinque nuovi giochi di Assassin's Creed presentati tutti assieme. È una merda, è disastroso. E ve lo dico da utente che li ha giocati e finiti tutti. Compresi gli spin-off, i cronicles, quelli per portatili. Tutti di obono. Sì, rimarco ancora di più. È un disastro che Ubisoft abbia annunciato completamente a caso. E chiaramente senza avere nulla in mano, ben cinque titoli principali del brand. Il tutto all'interno di un Ubisoft Forward che dovrebbe rappresentare il futuro della compagnia. Questo era l'evento attraverso il quale avremmo dovuto scoprire tutto ciò su cui Ubisoft punta per i prossimi anni. E buon Dio, questo sarebbe quello su cui Ubisoft ha deciso di puntare. Giochi mobile a tutto spiano, multiplayer come se piovessero, le stesse saghe trite e ritrite, brand rivoltati come un calzino e mille milioni di Assassin's Creed. Se in questi ultimi anni avevo notato un peggioramento delle condizioni della compagnia francese, dopo questo evento posso metterci bellamente una croce sopra. Seriamente, ragazzi, su 17 annunci solamente due mi hanno interessato, ovvero Mario Plus Rabbids, che poi se vogliamo parliamo comunque di un seguito, però almeno è un gioco che ancora sprizza carisma da ogni pixel, e Valiant Hearts 2, di cui non abbiamo visto assolutamente niente, e tra l'altro pure questo è un seguito! Cristo Santo, dov'è la varietà? Dov'è quella ricchezza di esperienze che dovrebbe stare alla base di una compagnia tanto importante? Dove sono Avatar? Dov'è Beyond Good and Evil 2? Che ne avete fatto di Rayman? Del vero Rayman! Di Splinter Cell, di South Park, di tutto ciò che mi ha fatti innamorare di questa enorme azienda! Ma soprattutto, dove sono le nuove EP? Dove sono le idee originali? Quelle che ti spingono ad aspettare il Day One con la bava alla bocca e un cobra nelle mutande? Ovvio gente, non mi aspettavo assolutamente di ritrovarmi con un evento di sole nuove EP con meccaniche mai viste prima, ma non pensavo neanche che avrei avuto a che fare con un Ubisoft Forward di soli giochi che sono tutti copiati l'uno con l'altro, una carrellata di titoli che non mi hanno lasciato niente, zero interesse, zero curiosità, il tutto era chiuso in un evento riassumibile in un'unica parola. Inutile! In un momento come questo rimpiango ancora di più l'Ubisoft del passato, una Ubisoft che aveva ancora il coraggio di osare e che tentava strade diverse dalla sua comfort zone, alle volte dando forma a titoli splendidi, in altri casi fallimentari, una Ubisoft che riusciva a farti divertire come un bambino, una Ubisoft che prendeva nomi di grande impatto offrendo loro nuova linfa vitale nel modo giusto, una Ubisoft che ti proponeva avventure che prima di lei nessuno avrebbe mai realizzato, una Ubisoft che il 50% delle volte ti lasciava con l'amare in bocca, ma che con quell'altro 50% sapeva farti godere in modi indicibili. Se in questi ultimi anni guardavo ad Ubisoft con preoccupazione, dopo questo Ubisoft Forward la guardo con un senso di condanna negli occhi. L'Ubisoft del passato, votata all'azione, all'esplorazione di nuove strade, punto di riferimento del mercato, quella compagnia è ormai morta, e al suo posto vi è ora un Ubisoft che è solo l'ombra di se stessa, priva di idee, priva di carattere, solo roba già vista, solo seguiti su seguiti, solo giochi che sono la copia carbone di altri giochi, ad alcuni di questo non fregherà nulla, altri probabilmente ne saranno addirittura felici, io invece ne soffro come un cane. Ciò che però, più di ogni altra cosa, mi fa davvero soffrire è la consapevolezza che dopo averci passato sopra ben 15 anni, col cazzo che mollerò Assassin's Creed, sicuramente continuerò a comprarlo, a giocarlo e a parlarne qui sul web, e riesco già a vedermi davanti alla telecamera. Ragazzi, ho appena finito Assassin's Creed 41, e devo ammetterlo, in un primo momento non è che mi convincessero, ma una volta giunto alla conclusione del prodotto, sì, confermo quello che in molti pensavano, alla fin fine i viaggi spaziali e l'apocalisse zombie hanno dato una bella svecchiata al brand. A presto! Alla fine! Grazie! 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 Grazie a tutti.